Il gol di Ronaldo dopo tre minuti, servizio di Di Maria e la gioia dell'autorizzazione ai colleghi colombiani a chiamare il Bibe. Gomes intanto! Mario Gomes per il pareggio della Fiorentina, 26 sul cronometro. Dopo aver sofferto parecchio il possesso palla della Real Madrid, la Fiorentina colpisce con Mario Gomes. Bella azione, Babacar, l'aiuto di Xabi Alonso che praticamente mette in porta Aquilani sulla corsia di destra, gli dà la possibilità di cross. Aquilani non se la fa sfuggire, perfetto il suo cross, è bello il colpo di testa in tuffo di Mario Gomes per l'1-1 della Fiorentina. Iliciccia, Borca Vallero, Pizarro. In profondità questo lancio, il lavoro di Marco Salonso. Vabbia Marco Salonso, attenzione, potrebbe provare il destro! Marco Salonso! 2-1! Fiorentina in vantaggio al 69esimo! Marco Salonso! Scartato da Real Madrid, una sola presenza con la prima squadra per lui. Per il 23enne di Madrid, esordico l'inrassing di Santanderra nella stagione 2009-2010. Poi tre anni al Bolton in Inghilterra, il Real Madrid l'ha lasciato andare. La Fiorentina l'ha preso da svincolato a maggio dello scorso anno. E adesso si toglie la soddisfazione, seppur inamichevole, di segnare al Real una bella storia la sua. Anche suo padre venne scartato dalla Real Madrid. Marco Salonso, Pena, cresciuto nel vivaio delle merengues. Poi scartato, è andato a consolarsi, si fa per dire con le maglie di Atletico Madrid e Barcellona.